salve a tutti ragazzi sono uno dei ddc team sono qui per il mio primo video su point questo gioco ce l'ho solo io questo fps ce l'ho solo io Leo e Stefano non ce l'hanno perchè non lo vogliono scaricare quindi vedrete solo me fare da solo come il coglione video allora che dovevo dire point è un video è un gioco con una brutta grafica più o meno è un fps con una brutta grafica però è giocabile come potete vedere perfetto qualcuno penserà che sto parlando da solo però chi se ne frega entro guardate il video ogni tanto parlo scusate allora siamo sei contro due stiamo perdendo sette e tre sono appena entrato in questa partita siamo contro due pro ci abbiamo i pro in squadra però siamo no per niente pro no per niente pro scusate scusate eeeh strage vediamo l'altro che cosa sta facendo mp4 e si va bene mp4 che cazzo sto a dire mp7 mp7 eeeh p90 In questo gioco ci sono Più di oltre 100 armi primarie Tra cui shotgun, cerchini Assalto, di tutto Il brutto è che ci sono anche quelle da shoppare Cioè con i gettoni No ora ti ammazzo Stronzo Vaffanculo 18 HP Mi sa che crepo adesso 3 HP, 3 HP No io adesso crepo Ti butto la bomba su Boom, boom Perfetto Non la posso prendere Ok siamo noi tre soltanto Oddio Sì siamo sfumati Vaffanculo Che ha in botte del cazzo Ma dai Ci hanno presi da tutte e due le parti Cristo Ci hanno ammazzato Non si può vedere Comunque ogni video di point Durerà 15 minuti Perché è quello di 25 minuti Cioè gli hunger game che abbiamo fatto io e Leo Dalle 9 e mezza Fino a mezzanotte Per caricarlo su YouTube Quindi vi lascio immaginare Ah ma vaffanculo da dietro E di questi stronz Troppe parolacce Eh vabbè ci vogliono contro di questi Che bastardi Mk46 Mitragliatrice a fuoco Mitragliatrice FTV Troppo Oh troppo Boom Vedilo da dietro Ecco perfetto Oh Tucate Sì è morto Sbucca Abbiamo vinto In questo gioco non sono per niente pro Quindi non vi aspettate cose Perché non sono pro? Non so dove sto andando Già questo vi basta per capire Non me la campero Di solito non campero Vado di forza Però contro di questi ci vuole Perché sono Dei pro di sto gioco Ecco io sto intrarciando No, perfetto Siamo su sei persone e quattro Tutti dalla stessa parte Secondo me ci trucidano tutti Perfetto Strillato come la femmina Oddio Milagga Cristo Dio da dietro No Dio da dietro No Sempre la stessa persona Oddio E vado da qua Fuca Affanculo Ma che vaffan bagno Restate armassato Perfetto Perfetto Ok mi dai Di partita E una ventina Di venti secondi esatti Di intro Quindi saranno Sei minuti a venti Ognuno Durerà quindici minuti Per registrare Diciamo fraps Fatto screen Ok Però lo devi scrivere meglio Allora Vi dico un po' le impostazioni Esco un attimo E vi dico un po' le impostazioni Questo segno Il primo È clan Dove qua uscirà il clan Il vostro clan E qua tutti gli altri Che esistono Qui ci dovrebbe essere anche Quello dei miei amici Cerca il nome del clan Allora Tecnico Teo Dovrebbe essere questo Ok non esiste più Ricerca dell'elenco del clan Non un attimo Aspettate Aspettate Mi sa che non lo trovo Penso che l'hanno tolto Questo qua Ecco infatti Ricerca completata A zero Tecnico Battaglia non esistente Perfetto Poi Allora il primo è il clan Il secondo Missioni Dove ci sono le missioni private Che potete comprare Con 5.000 Per esempio Acquista Non cagarmi il cazzo Acquista Ecco Perfetto Carta missioni Da ufficiale 8.300 punti Cancela L'acquisizione Commando 5.400 Vabbè ci sono le varie Poi qui ci sono I gradi E le specializzazioni Che Non riesco a A spiegarvi Quindi non ve le spiego Scusate Qui c'è l'inventario Deve ci sono le vostre armi Tutte le armi che avete I personaggi che avete Le odello in linea Perfetto I personaggi che avete E gli oggetti Perfetto Mi hanno regalato 8.000 punti Che io le uso subito Sacrificabili Non so che cosa sono Poi ci sono le primarie Che sono Quelle che io sono M4 K2 MP5 Spectre MP7 K1 SSG Secondario Sono la K5 Con la pistolina Bianca M7 Che è il coltellino E i pugni Da lancio La K400 E poi Speciale Il fumo Questo è l'inventario Questo è il mercato nero Dove Quando vi Vi registrerete Inizierete con 90.000 punti E vi potete comprare tutto A parte Quelle che sta scritto Oggettoni Qui ci sono tutte le primarie Che sono Ma vaffanculo Che sono un sacco Ho visto diamantata What? Ho visto una diamantata Dove? Ecco Alle 115 Anteprima Bellissimo E cazzo Non la posso comprare Vabbè Queste sono le primarie Poi ci sono le se What the fuck? Ok perfetto Non mi rompete le bande Secondario Che sono tutte le pistoline Tutte richieste Specializzazione Madre Che palle Ma vaffanculo Arma melee Che sono Chris Chris Il coltellino Annulla Anteprima Coltellino Pugni d'osso Che sono in osso Sono coltellini Cukri Che è il macete Mini axe Che è lanciabile Dual knife Tira pugni In ottone Che sono A me servono Le cose dei gatti Poi mini axe A punti Amok Il macete A punti Poi dual knife Punti E pugni E pugni Che sono solo A punti Poi da lancio Ci sono tutte le bombe Che sarebbero K14 Granata doppia K413 Volevo dire A gettoni Cioè Non cambia niente Però Non so cosa cambia Non lo spiego Poi ce ne sono C5D Che è a gettoni E la C5 Che è sempre la stessa cosa Però a punti E richiesta specializzazione Speciali ci sono Solo queste Il fumogeno potenziato Flashbang plus Granata fosforo bianco Fumogeno potenziato E granata fosforo bianco Queste Sono a gettoni Poi ci sono i pacchetti Che sono due Che sono due personaggi Questo è il mago Quindi l'assassinio E questa è la polizia E poi Che ti danno L'aug E la maschera Poi ci sono gli oggetti Che sono anche un bel po' Ecco Gli oggetti Che sono anche un bel po' E i personaggi Vabbè andiamo in un'altra In una partita Se no qua finisce così Eliminazione crocdon No, non piace Arsenale Claniamo Qui su No 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 Non so Una partita bella Black partner Ma Non ho già visto Kick point Aspetta Dove vedere Impostazione Kick point Kick point Kick point Kick point Kick point Shotgun no scucato mi ha mancato troppo mancano 10 minuti no dai se a fare mancano 5 minuti burning goal crackdown dai facciamo questo perché mancano tipo 3-4 minuti e ce la facciamo per il video prima di questo proprio esattamente un quarto d'ora fa più o meno ho provato a fare il video però si sente male la mia voce non so perché eppure è sempre lo stesso per il programma che io uso su katou ma vaffa ti stavo per killer ok perfetto è morto novese manca un minuto ok ce la faccio no se vado a qui sembra che non c'è troppo non c'è troppo non c'è troppo mi sta avversario per quanto qualcuno è morto la pancù ok ok c'è stato qua ripoto qui si può curioso cosa, cosa, qui era mio, vaffanculo, eh sì vabbè, proprio inizio a fare, ce la farà il nostro Luca, fare qualche kill, io spero, io credo, non è che spero, io spero, vaffanculo, io credo di no, vaffanculo, 0,2, che merda, no, scuca, che mi sta laggando, quando faccio il video mi va 30 fps, di solito quando non registro sto con un fraps aperto per vedere gli fps del gioco, e non sono questi, ecco, perfetto, cambiamo arma, in proposito, con l'AT in gioco si cambia l'arma, io metto M4, no, spettro, perché, tra l'altro, è anche finita la partita, quindi, non mi conviene usare, parità, perfetto, parità, 0,3, non ho fatto un cazzo, tanto, in tanto, sì, tanto mi so che stoppo qui il video, e, comunque, ditemi, volevo farvi una domanda, ditemi se continuo con questo, cioè, mentre faccio, quando faccio video, faccio con questo account, catino, 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 oppure ne creo un altro, e, mi scrivete voi, nei commenti, ci scrivete voi, nei commenti, come lo chiamo, e, niente, e, qui finisce il video, e, ciao, ciao,